Non posso assumerla, anche se hai una tua parente stretta. Ma questo posto avrebbe bisogno di una bella polizia. Ma cosa dici? Se questo posto qua è pulitissimo, non abbiamo soldi. Ma non ci servono i soldi, basta fare alcuni giorni una stagia per l'Accademia dei Bidelli. Non ce ne parla neanche, la vado a salutare. Signorina? Ti presento a... Gata! Signorina? Mentre il punto si utilizza per terminare la frase. Avete capito? Allora... Sì, sì. Visto che siete tutti così attenti, per la prossima volta cento frasi utilizzando il punto e la virgola. Avete capito? Cento frasi, ma sono troppe. Dai, le faccio io. Ma veramente sei un tesoro, grazie. Io e i miei amici ci sentiamo forti e ci siamo rossi. Io ho buttato questo. Ma... Io ci tengo alla mia linea. Ma... Anzi lei, tutto a posto, mi sembra un po' preoccupato. Ultimamente il canale nostro di YouTube ha poca visualizzazione e non so come fare. Ha già parlato con Amelie? Ma sai quant'è una combinata? Si fidi, parli con Amelie. Dov'è? Dov'è? Amelie? Era tu che cantavi? Sì, ero io. Bellissima canzone. Pensa che questa canzone ci puoi dare una mano per il nostro canale? Io sono ancora il ritornello e quando finirò ve la farò ascoltare. Adesso devo andare a cambiarmi per le lezioni di danza. Sì, 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 guarda le lezioni. Sì, sì, guarda le lezioni. Sì, sì, guarda le lezioni. Sì, lei potrebbe essere la nuova vidella? Sì, ma tranquilla. Faccia come se non ci fossi. Ma scusi, le dispacerebbe tornare più tardi a pulire? No! Ma sono dei cini. Perché devo pulire qua? Non le do a fastidio. Non si preoccupi con te. Allora, torniamo al nostro meraviglioso lato dei cini. Eravate fantastici, bellissimi. Quello, come cini o madre, dovesse andare all'opera di Parigi. Sei stato magnifico. Tutti in posizione. Perché si può sempre migliorare. Sono convinta. Ok, i cignetti, i cignetti. Fantastici. Allora, ricordiamoci. Quinta posizione. Giù le spalle. Sulla schiena. La testa piena. E ammigli un sorriso. Oh, sei fantastica. Meravigliosa. Ok, pronti? E... Uno, due, tre, quattro. Basti, stai! Oh, ma cosa stai facendo? Non vedi che stiamo ballando? E questo me lo chiami ballare. E tu chi saresti per parlare? Un'insegnante? Un'insegnante? Fa parte di te. Ma tu sei meglio di così. Eh, yeah! Ma tu sei meglio di così. E adesso? Con le bocche? Chiudetele. Perché se no... Ci entreranno le mosche! Mmm... Mmm... Ah, molto bene, molto bene. Fantastico. Ok, per favore. Insieme agli altri, in posizione. Torniamo alle cose importanti. Allora, prima dell'esame faremo un'ultima verifica. Ballerete in balser. Non è meraviglioso? Il balser è un bando di coppia. Quindi sceglietevi un compagno. Avanti. Su. Gabe con Amelie. Melania, tu andrai con Moreno. E voi due non siete perfetti. Perfetto. Allora, mi raccomando. Il balser ritroverà il suo voto finale. Quindi impegnatevi. Ma sono convinta che sarete meravigliosi. Sì. Io non c'era più l'interipo finale. Non manco io. C'è un sacco di lezioni di scienze. A me c'è un sacco di lezioni di scienze. Non c'è un sacco di lezioni di scienze. E' un sacco di lezioni di scienze. Sì, come la pari scopi. Sì, come la pari scopi. Sì, come la pari scopi. Opsa! Dai, pulisci! Ce n'è ancora un po'! Più veloce! Ma cosa fai? Mollami! Allora dai, fammi vedere i passi! Ok, ci vuole un po' di lavoro, ma niente male! Isabella, tu sei come gli scarafaggi, resisti a tutto. I raggi della tua bellezza arrivano dappertutto, come l'uranio impoverito. Mi piaci come fare i compiti la domenica, e quindi... Anche... anche a me piaci. Però, sai, sarà difficile. Alle ragazze servono attenzioni. Ragazzi, vi devo far vedere una cosa. Se dovresti scegliere tra danza classica e hip hop, quello sceglieresti? E perché? Beh, allora scrivele nei commenti, guarda altre mie puntate. E mi raccomando, non dimenticarti di fare shorts con le parti preferite di questo video. Beh, grazie e a presto! Ciao! Sei solo una bulla! Hey, ore 19, sono in palestra e che faccio le prove!